Questa è una delle opere più belle della collezione Luzzetti. È un'opera di Giovanni Antonio Galli, detto lo Spadarino, che è un pittore della cerchia di Caravaggio a Roma e rappresenta il sacrificio di Isacco. Al contrario delle opere di Caravaggio, quindi del suo maestro, però in questa composizione non c'è violenza, non c'è dramma e non c'è angoscia. Tutte caratteristiche dei dipinti dell'epoca di Caravaggio. Nel sacrificio di Isacco di Caravaggio, per esempio, Isacco urla terrorizzato mentre il padre lo sta per sacrificare. Invece in questo dipinto viene accarezzato da Abramo con una malinconia struggente e quindi la tela esprime una dolcezza, una liricità che era inedita a Roma in quegli anni e che farà la fortuna di pittori della cerchia di Caravaggio come Spadarino. Grazie per la visione!